ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già oggi voglio fare con voi questa gallinella di pasqua per fare appunto questa gallinella noi avremo bisogno di due stoffe come vedete qua del merletto oppure un nastrino o se non volete potete anche non metterlo avremo bisogno di due perline nere e del pannolenci rosso molto molto morbido e del pannolenci giallo poi avremo bisogno dell'imbottitura circa 150 200 grammi di imbottitura e avremo bisogno di un imbottitura per le ali tipo questa quindi uno spessore di penso sia 2 mm e compatta quindi a questo punto potete utilizzare un pannolenci magari non sottilissimo quindi un po più spesso e fare con quello poi come vi ho detto prima delle perline per fare gli occhietti oppure se siete bravi al ricamo passerà il filo nero e fate gli occhietti ricamandoli il carta modello che vi farò vedere oggi a proposito che potete scaricare sotto la descrizione del video oppure qui in alto a destra dove apparirà una scheda per poter scaricare appunto il carta modello è valido anche per fare la colomba alla fine del video vi darò dei suggerimenti su come farla io direi a questo punto di metterci subito al lavoro ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi tutorial quindi buona creatività a tutti 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 perché a tutti per e a tutti e tutti e tutti su a tutti a tutti a tutti